E quella è una D? Questa è A! La A? Sì! Ok! E l'altro sono i bambini! Sì, ok! Un'altra? Un'altra? Ok! Questa è OZE! E quella è una A! E questa è I! E' I? Sì, è I RATTO! Questa è OZE! Questa è facile! Questa è una E! E questa è F! F! Sì! Mamma mia! Ma è RATTO! È RATTO? Sì! Ma no! Non utilizzare i bambini! E questa è OZE! Una W! E questa è U! U! E la S! No! È sbagliato! È una X! Sì! È molto sbagliato! Un'altra? Questa è OZE! Questa è OZE! Questa è una C! OZE! E questo no! E questa è... Cos'è? Non so! È la G! Giraffa! Sì, è la giraffa! Ui, yes! E un'altra? Questa è l'A! Questa è l'A! Cos'è? Elefante! Amante! Elefante! 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 E cos'è? Elefante! Una? Una... A D! No, è la D! Sì! No! Ma lì! Ok, aspetta! Volevo avere... A... B... B... Sì! D... I... 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 E... No, no, non è una cosa! Puoi dire cosa? Una D! Ma può dire che? Questo... O... A... A... O... 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 Questa è la cosa? Una D! Questo O! Eeeh! È una O quella? Sì! Uovo! È un uovo! No, uovo! Ma dove è il uovo? E adesso non è un piccolo uovo! Questo è la D! Uoze! Ah, quello è la D! È una Oze! È molto della poca! Cos'è che più è la Oze! Uovo è piccolo! È piccolo? Sì! Ok! Uoze! Questa è facile facile! Questa è una... C! Questo... A B! È la B! Sì! Wow! Ma è la A! Ah, Diana! Io non ce la faccio più, basta! Perché domani! Cominciamo domani! Perché... Desso a me! Desso a me! Desso! Ok, ciao, ciao! Desso!